sono quasi commosso quasi quasi mi scende una lacrimuccia dagli occhi ragazzi è il 4 gennaio 2023 è il giorno in cui torna ufficialmente la juventus il giorno in cui torna ufficialmente la serie a è il giorno in cui mettiamo definitivamente la parola fine al mondiale in catar 2022 e facciamo un passo avanti facciamo un passo oltre facciamo un passo verso le squadre di club adesso non ci si ferma quasi più praticamente si va dritti fino al 5 di giugno anche ieri allegri faceva il conto 37 partito ogni quattro giorni adesso facciamo una bella scorpacciata un'indigestione di juventus ci sono alcune novità allegri un po la tirata forse se vogliamo ieri dicendo è se non succede qualcosa è qualcosa è successo allora intanto non ci sarà di maria non ci sarà di maria perché in allenamento ha rimediato una contusione alla caviglia e quindi quello capita non è un infortunio muscolare è un infortunio dovuto un trauma però ragazzi che palline posso dirlo che palline anche per ieri facevamo i conti no su quattro dei giocatori più emblematici se vogliamo per la juve che sono vlaovic chiesa di maria e pogba che erano i quattro giocatori che inizio anno dovevano farti fare il salto di qualità dovevano essere veri propri trascinatori di questa squadra e chiese era quello che veniva da un infortunio grave gravissimo come un crociato dall'anno scorso e oggi è l'unico disponibile e anche lui non è al 100 per cento avrà a disposizione uno spezzone di gara perché gli altri di maria l'abbiamo detto caviglia fuori uso dopo rientro al mondiale dopo campione del mondo mondiale giocato barra non giocato una prima parte di stagione in cui ha fatto la differenza effettivamente in due partite l'esordio col sassuolo in champions league in casa con il maccabi haifa mentre le altre invece sono state tutte partite normali non partite da di maria non partite che ti puoi aspettare da uno come di maria ma deve ancora mettere piede in campo e vlaovic questa pubalgia non dà pace quindi infortuni risentimenti traumatici muscolari quello che volete insieme di fattori che non possono limitarsi soltanto alla pura sfortuna la pura sfiga anche ma non possono limitarsi soltanto a quello ci fanno avere una rosa sicuramente ridimensionata rispetto alla potenzialità di cui dispone sulla carta questa squadra e va così ma così e ricordate no quando dicevamo ah beh ci fermiamo però poi a gennaio torniamo con tutti è inutile non si può nemmeno pensare questa cosa anche ieri allegri in conferenza l'ha detta l'ha ribadita ma sì dai tra 15 20 giorni in teoria le avremo tutte a disposizione io non ci metto la mano sul fuoco sono disposto a scommettere che non sarà così forse è una scommessa che non ritirano neanche i bookmakers perché è veramente abbastanza facile da vincere però siamo messi così siamo messi così non ci sarà nemmeno a che che io immaginiamo potesse essere titolare e invece è con la next gen e romeo agresti diceva che secondo lui una sorta di bocciatura per a che da parte di allegri convocato invece tommaso barbieri lì sulla destra ma sorpresa titolare dovrebbe giocare mattia sassule e allora cerchiamo di immergerci cerchiamo di andare a vedere quella che dovrebbe essere la formazione titolare secondo tanti giornali tanti addetti ai lavori scesne in porta ieri allegri l'ha detto devo vedere se recupererà recuperato devo vedere se farlo giocare probabilmente giocherà così come giocheranno i tre brasiliani anche qua allegri aveva detto è dobbiamo vedere perché poi c'è l'udinese sandro bremer e danilo per il momento questa sembra la difesa titolare vero ci sono ancora gatti rugani che possono scalpitare per un posto da titolare devo dire la verità mi sorprenderebbe vedere uno dei due italiani al posto dei tre brasiliani kostic a sinistra sulle a destra e addirittura perché la novità più importante secondo me è a centrocampo dato che in tanti stanno dando rabbio locatelli fagioli come titolari che dal punto di vista della titolarità non sorprende perché questi sono effettivamente i tre titolari della juventus quindi l'abbiamo visto anche nelle partite prime mondiale sono i tre giocatori che a centrocampo hanno creato trovato quella quadra e quindi è normale che che si possa pensare di vedere loro tre però dicevamo anche ieri rabbio è uno degli ultimi rientrati è il terzultimo rientrato post mondiale e allegri diceva abbiamo strutturato i gruppi di lavoro per settimane i blocchi di lavoro per settimane quindi c'è caso che che rabbio possa non essere ritenuto pronto per giocare a titolare eppure eppure lo mettono lì attenzione che se non dovesse giocare rabbio io mi immagino addirittura miretti e mccenni con miretti a sinistra e mccenni a destra come come mezzali centrocampo vediamo credo che locatelli sia veramente l'unico sicuro del posto lì davanti anche perché l'alternativa è paredes che è tornato veramente da troppo poco e mccenni sembra potesse essere utilizzato addirittura a destra a tutta fascia nel centrocampo a cinque e invece in questo momento sembra proprio essere sulle il giocatore indicato come titolare in quella porzione di campo e proprio su sulle secondo me c'è da fare un ragionamento c'è da fare un discorso più che altro perché l'abbiamo visto in quella posizione in due occasioni nell'amichevole con il reka e nell'amichevole appunto l'ultima giocata con anzi sì con lo standard liegi abbiamo visto in quelle due anzi no scusate con l'arsenal e con il reka perché con lo standard poi ha giocato davanti quindi arsenal e reka con l'arsenal abbiamo visto a sinistra perché non era ancora arrivato a costice e quindi aveva giocato lì dove la verità non mi era piaciuto particolarmente perché sulle è un giocatore mancino di piede ma chiama entrare dentro il campo la classica la destra un po come faceva anche di mariano il giocatore che parte dalla linea e poi si accentra per liberare il mancino magari con un tiro giro o con un assist giocando a sinistra faceva fatica proprio perché non poteva rientrare sul mancino aveva la necessità di rimanere largo e quindi la sua peculiarità la sua caratteristica di entrare dentro il campo non veniva premiata a destra invece ha interpretato il ruolo in maniera particolare perché è vero che l'esterno a tutta fascia cosa che non è assolutamente sulle perché per caratteristiche più un attaccante rispetto che un esterno a tutta fascia però la caratteristica dell'esterno a tutta fascia è quella di prendere l'ampiezza un po come fa costice abbiamo in mente no come gioca costice ecco quella è la caratteristica sulle non faceva questo sulle entrava proprio dentro il campo si partiva con il mancino si accentrava e poi tante volte cercava il cross a giro proprio come un vero e proprio esterno di centrocampo a 4 o comunque come un'ala d'attacco a 3 quindi lasciava anche tanto campo libero tanta porzione di campo che si poteva andare a prendere in sovrapposizione e attenzione che danilo può andarsela a prendere quella sovrapposizione lì quello spazio lì danilo giocatore è notoriamente che non sale tante un terzino abbastanza bloccato però ci sono state le partite cui danilo comunque sul fondo ci andava spesso e volentieri quindi attenzione che quella porzione può essere presa proprio da danilo e se ricorderete milic comunque andava a fare una sorta di raccordo a centrocampo lì sulla destra anche nell'ultima amichevole una sorta di doppio trequartista insieme a miretti oggi in quella posizione lì non potrà andare milic proprio perché molto probabilmente andrà su lei quindi mi immagino un milic più avanti meno raccordo più attaccante perché milic e su lei amano quella posizione lì e c'è un motivo sono entrambi i mancini sono entrambi i giocatori che amano da lì far partire un tiro o un cross e quindi oggi occhio che potrebbero pestarsi i piedi quei due giocatori in quella posizione lì mi dispiace tanto per di maria perché io ricordo anche l'anno scorso eravamo a roma io lello e panos ne parlavamo eravamo in un bar prima della finale di coppa italia con l'inter e dicevo ragazzi prendere di maria parametro zero non è un errore ci sta è un giocatore di un certo tipo di un certo calibro di un certo palmarès quello che volete può dare tanto a questa juve però ha senso solo se all'ombra di maria ci fai crescere uno come sulle che per caratteristiche tecniche nazionalità ispirazione modello di gioco si avvicina tanto in queste prime partite dell'anno invece sulle era molto caduto nel dimenticatoio di maria non aveva dato quello che ci si aspettava potesse dare anche magari uno negativo uno pessimista sul suo arrivo probabilmente non poteva essere così pessimista magari sì io ero molto più ottimista devo dire la verità rispetto a di maria rispetto a quello che ho visto da di maria anche rispetto magari diversi atteggiamenti di di maria però oggi c'è sulle oggi c'è sulle che giochi in una posizione non sua ne so che sicuramente in tanti non saranno contenti di questa cosa io in primi se non è che sia felicissimo di questa cosa ma vederlo in campo per me è tanta roba perché sono convinto sono veramente convinto che l'allegri di inizio anno prima partita con il sassuolo lì non ci avrebbe messo sulle ci avrebbe messo mckenney sarebbe andato sul sicuro non è ancora detto è che giocherà titolare sulle però si va in quella direzione lì se siamo riusciti anche solo parzialmente a fare quel passettino in avanti le loro mentalità e dire e vabbè lui però più partite no gioca chi se lo merita allora c'è caso che sulle parta titolare oggi e questo deve essere un piccolo passo che ci portiamo avanti perché dico rispetto all'allegri inizio anno perché secondo me è una condizione normale quindi con la juve che ha concentrazione lato campo invece che lato altro lato extra campo e sappiamo tutti allegri l'avrebbe valutato molto attentamente come esonero perché effettivamente risultati sportivi non davano non andavano in quella direzione lì dall'altra parte allegri è stato salvato da chi dai ragazzi dai ragazzi perché se col benfica non facciamo la figuraccia è perché healing junior entra e comunque due volte li fa recuperare che la figuraccia è fatta è perché comunque si è uscito la champions perché stesso fagioli un giocatore che non giocava mai è entrato di prepotenza nell'impianto juve è risolto la partita con lecce ha chiuso i conti con quella con l'inter lo stesso miretti inizio anno era uno di quelli che quindi ci sono stati diversi casi di giovani dei ragazzi quindi non il nome non la carriera il curriculum che hanno effettivamente portato punti e vediamo che sulle vediamo se sulle non sarà un altro di quelli che perché comunque quadrato fino adesso abbiamo visto non ha fatto una gran stagione sulle nessuno lo certo però può ritagliarsi uno spazio può ritagliarsi un'occasione può ritagliarsi anche un finale di stagione una seconda parte di stagione da protagonista perché sulle si parlava anche lì lo cediamo non lo cediamo in prestito a gennaio adesso vediamo perché è vero che la cremonese non è chissà che cosa ma è anche vero che sulle un 2003 non è esperienza e quindi questa è già una partita per farsela l'esperienza per essere già decisivo vediamo come andrà ci vediamo alle 18 e 30 e live su twitch ciao